Qui state per vedere come Chris Rock stia per dare una guanciata alla mano di Will Smith Ebbene sì, per la terza legge della dinamica di Newton, quella dell'azione e reazione la mano di Will Smith avrà sofferto un pochino in quell'istante Questo principio è lo stesso che fa mandare i razzi nello spazio dato che spellono il carburante molto velocemente e quindi loro vanno in direzione opposta o i razzi ad acqua come avevo fatto in questo esperimento Ciao!